Un codice etico per gli amministratori parini. Il comune di Vittoria ha adottato la carta di Pisa. Il codice etico per gli amministratori è approvato la scorsa settimana a Pisa e promosso da avviso pubblico. Vittoria è la quarta amministrazione ad aver adottato il documento dopo i comuni di Certaldo, Quarata, Giovinazzo e la provincia di Pisa. Il codice è stato approvato prima con decreto sindacale del sindaco Giuseppe Nicosia l'11 aprile scorso e il giorno successivo con delibera di giunta. Un atto dovuto, dice il sindaco, per un'amministrazione che della legalità e trasparenza ha fatto il proprio cavallo di battaglia. Siamo fra i primissimi comuni in Italia che lo adottiamo perché lo hanno adottato solo tre comuni ancora in Italia e più la provincia di Pisa. Quindi ci scriviamo nel novelo di quegli enti virtuosi che in Italia stanno cominciando a dare dimostrazione che la politica a livello nazionale invece tarda a dare di pulizia e di avvicinamento a quelli che sono le esigenze e le istanze dei cittadini e piuttosto della politica lontana dalle realtà. Quali i contenuti del codice etico e cosa comporterà per i singoli amministratori? È un qualcosa in più, un aiuto in più. Impone agli amministratori di essere assolutamente trasparenti, di fornire qualunque notizia in ordine ai curriculum, non solo propri ma anche dei nominati. Impone agli amministratori di dimettersi, me compreso, qualora dovessimo essere raggiunti da decreti di rinvio a giudizio per fatti di mafia o per grave criminalità e questo mi sembra un esempio da dare, cosa che non danno i nostri parlamentari nazionali.